Perché si usa differenziale? Perché chiaramente io cosa devo fare? Devo trasmettere la coppia dal motore alle vuote ok? Per poterlo fare potrei attaccarmi appunto a un asse rigido però poi quello che succede è che ovviamente la macchina diventa un po' inguidabile perché come ben sappiamo se te percorrere una curva il raggio della curva all'interno macchina è minore di conseguenza la macchina della ruota percorre meno strada quindi dovrà girare la velocità minore rispetto a quella esterna quindi staremo sempre tutti di traversa e sotto i fossi infatti nel drifting poi saldano i differenziali e fanno queste cose insomma quello infatti può avere anche le sue applicazioni ovviamente però diciamo che insomma per strada è un po' problematico e in ogni caso anche in pista ecco ci vuole comunque differenziale quindi come funziona appunto il differenziale stradale normale ci sono questi ingranaggi che danno un grado di libertà in più all'asse rispetto all'asse cioè permettono alle ruote di ruotare liberamente rispetto all'asse ma di trasmettere comunque la coppia ok però qual è il limite poi di questo sistema è che si può dimostrare matematicamente che comunque lui per come è costruito ripartisce sempre la coppia in modo uguale sulle due ruote quindi la coppia che entra dalla corona viene trasmessa a metà sulle due ruote però la coppia che viene trasmessa dalla corona qual è quella che poi io scarico a terra ok quindi sulla macchina a terra ok sulla macchina alzata è nulla ovviamente se ho una ruota a terra e una ruota alzata si capisce bene che essendoci anche una sola ruota alzata e dovendo essere uguali come abbiamo detto le coppie sulle due ruote se nella ruota per aria trasmetto coppia nulla trasmetto coppia nulla anche nelle ruote a terra quindi di fatto non accelero cioè io posso dare tutto il gas che voglio mi slitterà la ruota alzata e questo quindi ovviamente quando è un problema quando sono per esempio in pista in una curva elevata accelerazione laterale in cui tendo a caricare molto le ruote esterne mi si scarica la ruota interna e quindi succede questa cosa e quindi la coppia che riesco a trasmettere è data dalla ruota che ha minura aderenza e quindi si perde tempo e quindi in pista non è proprio adatto e anche brutto quando succede perché vuoi dare gas vuoi uscire veloce da una curva in realtà la macchina non ti sente perché la ruota più leggera va vuota e tu non hai spinta e quindi sei lì bloccato in curva e qui esatto e qui viene l'idea dell'autobloccante quindi qual è il concetto mentre nel differenziale aperto appunto vediamo che la crociera che è praticamente questo alberino che porta i satelliti che sono queste ruote coni più piccole è fissata proprio con la scatola quindi ruota sempre insieme alla scatola direttamente fissata sulla scatola quindi cosa succede? Lui quando te va in dritta i satelliti si portano dietro i due planetari che sono direttamente collegati con le ruote quindi lui fa questo poi in curva appunto c'è la possibilità di ruotare questa possibilità di ruotare è proprio quello che ci dà il problema quindi dobbiamo frenarlo cioè per riuscire a scaricare più coppie a terra dobbiamo frenare questo regalo di libertà quindi come si fa? Praticamente il concetto qui è che la crociera è fissata direttamente alla scatola qui la crociera che è questa dove sono i satelliti non è fissata direttamente alla scatola ma è fissata cioè è fissata si accoppia con queste rampe appunto quindi cosa succede? Ora per capire meglio tutto l'assieme questa è poi la scatola in cui montiamo tutto questo blocco quindi questo va dentro così si accoppiano queste quattro tracce ci sono poi le lamelle ora questo lo vediamo dopo comunque qual è il concetto? Che mentre lì appunto la crociera è direttamente tirata dalla scatola qui la coppia passa dalla scatola alle rampe ok? Ah abbiamo dimenticato il pezzo non riusciamo a muoverlo facciamo vedere da un lato solo tanto il concetto è lo stesso cosa succede? Che siccome io appunto la coppia mi passa, viene trasmessa la scatola su questi denti succede questo cioè ora ovviamente sto esagerando nella realtà non succederebbe mai così la rampa si sposta veramente di pochi decimi anche perché non è libero ma esatto però quello che fa è che genera una forza lungo l'asse del differenziale che ci va a schiacciare i dischi frizione e lamelle come li vogliamo chiamare quindi per esempio cioè come funziona? Questo disco si accoppia con il planetario ok? Che è appunto come ho detto ruota dentata collegata direttamente al pneumatico quindi se io vado a mettere un disco accoppiato col planetario un altro disco con questi stessi denti che quindi si accoppia con la scatola questa forza poi vabbè ovviamente abbiamo la molla a tazza che ci dà il precarico al sistema questa forza mi va a schiacciare questa frizione ok? Quindi cosa succede? Che io vado appunto a frenare il movimento del planetario rispetto alla scatola se immagini di avere una forza tanto grande da riuscire a bloccare completamente la rotazione relativa del planetario rispetto alla scatola hai fatto un asse rigido quindi se te pensi ai due estremi il differenziale libero è senza questa frizione e quindi completa libertà del planetario di ruotare rispetto alla scatola l'asse rigido è planetario bloccato rispetto alla scatola l'autoloccante è tutto ciò che c'è nel mezzo perché di fatto io cosa posso fare? posso scegliere quante lamelle mettere quindi quante superfici avere effettivamente in uso nella frizione posso scegliere l'angolo della rampa perché qui cosa succede? che chiaramente più l'angolo è chiuso e meno è poi la componente di forza che mi va a schiacciare la frizione più quest'angolo è aperto quindi la rampa più è stesa e più che nel dare coppia mi si genera una forza estremi quindi più blocco infatti come vedevamo quando abbiamo montato il differenziale della 75 dalla rampa a 45 gradi che ci dava un bloccaggio di circa il 50% passando alla rampa a 60 gradi avevamo un bloccaggio dell'80% quindi insomma il meccanismo è questo poi appunto i parametri su cui si può intervenire abbiamo detto il numero di superfici in attrito poi vabbè in progettazione ovviamente il raggio medioe delle lamelle e le angole di rampa poi di solito almeno ci sono comunque almeno due possibilità di rampa in cui scegliere poi che uno si potrebbe dire differenziale spostarlo dove vuole se noi l'avessimo messo su quell'altra rampa quella più ora diciamo questa qui è quella più morbida noi l'abbiamo montato così diciamo che è quella a 45 gradi in accelerazione e tenta di radio in frenata perché poi chiaramente c'è anche il discorso in frenata tira e rilascio che è un altro discorso ancora rilascio rilascio la coppia cioè la forza che poi mi va a girare la coppia si inverte e quindi è il contrario è l'altro lato e quindi anche lì è quello di creare il fenomeno magari dai una botta di gas e lo lasci di botto in curva dietro la macchina si blocca giusto e ti viene lo stesso effetto al contrario ma poi il risultato è lo stesso cioè che la macchina ti va di traversa se non è posteriore è lo stesso risultato che dare una grossa accelerata di coppia e comunque tu la macchina te la ritrovi sempre che va come piace a me accetto giustamente e quindi anche le trature di tira e rilascio sono un'altra cosa ancora cioè è complicatissimo chiaramente non si lascia a far capire in pochi minuti io ci provo da anni a capirlo e ho ancora un miliardo di lacune però con l'esperienza anche guidando magari capisci cosa fai sì capisci cosa fai ma non gli sai dare un nome oppure vederlo lì tra le mie mani oggi mi ha chiarito mille dubbi e già vederlo così già poter fare quel movimento là ti fa capire questo succede là dentro quando io faccio il creme sì perché poi chiaramente cosa succede che te lo tieni fermo e dici ok giro questa avanti e quella gira indietro però in realtà cosa succede che tutto gira cioè tutta la scatola gira quindi non è che diciamo ma come allora vuol dire una avanti una indietro questo non succede mai ovviamente no semplicemente che questo appunto ti permette a una di girare più veloce dell'altra quello che è difficile da immaginare è che le ruote vanno e tu mentre entrambe vanno uno va di più e l'altro va di meno cioè è questo che bisogna immaginare è difficilissimo questo marchi ingegno qua difficilissimo ci ha permesso da decenni di divertirci come dei matti che poi un altro problema importante è proprio l'uso delle parole no? la gente con il termine bloccaggio si fa fregare e io in primis ci sono passato e lo ammetto candidamente ci sono passato anch'io a farmi fregare con il termine bloccaggio perché molti credono non era il mio caso ma comunque molti credono che il differenza di autobloccante sia questo mago che capisce quando deve fare le cose come per magia non è così è meccanico quindi è fisico esatto cioè nel senso è che proprio per come è costruito quando lui trasmette una certa coppia te dai una certa coppia lui di fatto che fai? la trasmette tramite la rampa quindi lui blocca sempre cioè più coppia dai più blocca più la rampa è inclinata e più blocca cioè non è che sa appunto quando la ruota sta slittando perché comunque è un pezzo d'acciaio non ha un'elettronica che gli dice ah sì vediamo la differenza per le ruote ci sono poi differenziati elettronici certo ci sono poi e lì poi vabbè tutto un discorso però quello meccanico si basa sulle lecce la cosa bella è che comunque pur essendo cioè pur non sapendo cosa succede effettivamente funziona bene sono quelle cose che insomma anche il fascino della meccanica che comunque si riescono a farlo comunque guidare una macchina con una differenza dell'autobloccante meccanico vecchia scuola esatto è diverso da un altro gusto uno che ha un minimo di sensibilità si accorge che sta succedendo qualcosa che è meccanico è fisico e che non è intelligente di vita propria risponde alle leggi fisiche e basta non prende iniziative mentre tante macchine moderne prendono iniziative infatti il bello appunto è proprio quando tipo una macchina a trazione anteriore all'autobloccante è la prima volta che te proprio una macchina tra il centro dell'autobloccante ti entra in coppia in curva e senti la reazione sullo sterzo e dici ok la macchina vuole salire sul muro interno e lui dice ok adesso capisco cosa vuol dire la tua perché è un figato è un figato è un figato